Che il 2016 sia un anno migliore del 2015 per chi insieme a me cerca la salute e il benessere naturale. Quando stiamo bene prendiamo la vita per il verso migliore e anche per questo auguro a tutti tanta salute naturale per tutto l'anno. Il 2016 è l'anno giusto per mangiare bene e tornare in forma perché spazio solo salute è uno stile di vita. Buon anno a tutti! Come dice l'Ayurveda la salute è per tutti e il mio augurio è che quest'anno ne abbiate in abbondanza voi e i vostri cari. Buon 2016 Ayurvedico! Ogni nuovo anno è più bello con il benessere e la salute. Anche quest'anno sarò contenta di accogliervi allo spazio solo salute per condividere con voi momenti di benessere e salute naturale. Auguri e buon 2016! Tanti auguri dai siti web di spazio solo salute e da me che ci lavoro ogni giorno. Buon 2016 di salute e benessere a tutti!